Sarebbero una quindicina le manifestazioni di interesse all'acquisto della Casa Divina Providenza giunte al notaio Acquaviva di Biceglie. Il termine è scaduto ieri e nella mattinata di domani si procederà alla loro apertura. Sarà bene chiarire a tal proposito che domani non si venderà nulla, perché nella confusione creata sull'argomento, anche artatamente, in molti pensano che quell'incorso sia una sorta di asta al miglior offerente, ma non è così. Inizia solo una lunga procedura che durerà diversi mesi prima di concludersi. Le buste contengono infatti delle manifestazioni di interesse non vincolante, con le quali le varie aziende, oltre a comunicare la propria disponibilità a valutare l'acquisizione, per dirle in modo semplice allegano una sorta di curriculum con tutte le notizie sulla propria azienda o gruppo, le esperienze imprenditoriali nel settore, il fatturato e quant'altro. A tali aziende verrà inviata una situazione completa della Casa Divina Providenza, con tutti i documenti necessari ad una piena conoscenza di ogni dettaglio, nonché una perizia sul valore degli immobili e sul complesso aziendale, fatta dalla Ernest Young, una delle maggiori società di consulenza del mondo. Ricevuta tale documentazione, gli interessati avranno 45 giorni per fare le proprie valutazioni e decidere se desistere oppure inviare un'offerta, questa volta vincolante, insieme ad un dettagliato piano industriale con il quale illustreranno come intendono rilanciare la Casa Divina Providenza, piano industriale che dovrà tra l'altro prevedere una fideiussione bancaria a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali valida per due anni. Le manifestazioni di interesse possono riguardare l'intera Casa della Divina Providenza, cioè le sedi di Biceglie, Foggia e Potenza, o solo una parte. Dovrebbe essere privilegiato l'acquisto dell'intera azienda, anche se un introito superiore e un maggior numero di occupati con la vendita delle singole strutture potrebbe indurre all'accessione dei singoli rami di azienda. Ma queste sono scelte che si affronteranno successivamente. Chi dovesse acquistare la Casa Divina Providenza entrerà in possesso di una New Co., una nuova società ripulita di tutti i debiti pregressi, una procedura identica a quella operata in passato per la Parma, Latte per l'Italia. Il commissario della Casa Divina Providenza, l'avvocato Bartolo Cozzoli, è stato autorizzato alla procedura di vendita dal Ministero dello Sviluppo Economico a febbraio 2015 e la procedura scadrà a febbraio 2016. La sua intenzione è di chiudere tutto entro quella data.